Buonasera mister, siamo in diretta, complimenti per questo esordio in bianco verde, lo dicevamo, la partita che ci aspettavamo, oggi la priorità erano sicuramente i tre punti, vissi soltanto i soli due giorni di lavoro e la grande emergenza infortuni. Sì, abbiamo lavorato soprattutto sotto l'aspetto mentale, ho detto in settimana ho trovato un gruppo di ragazzi predisposti al lavoro, disponibili nel voler fare risultato, sia io che il direttore, se penso che il direttore mi ha detto sto lavorando come se fosse la partita con Napoli per prepararla al massimo, questo l'abbiamo fatto, ho fatto un complimento ai ragazzi, al pubblico che comunque ci ha incitato fino alla fine e per noi questo è molto importante, sappiamo che comunque la strada è lunga, bisogna lavorare sotto tanti aspetti, abbiamo il tempo per farlo, però devo dire che i ragazzi hanno fatto una partita che gli avevo chiesto. Ecco, il 3-5-2 immagino era la scelta migliore oggi, viste le assenze, dicevamo pochissimi difensori centrali, anzi solo i tre che hanno giocato, Murano che non è ancora al top della condizione, che risposte ha avuto dalla squadra? Ma ho avuto grandi risposte, volevo dubbiare anche il discorso con un altro sistema di gioco, però i ragazzi mi avevano provato poche volte, ho cercato di dargli le certezze, ho cercato di dargli le sicurezze, perché questo è un gruppo che comunque è maturo e capisce determinate situazioni, ho cercato di mettere i propri giocatori nelle condizioni di esprimersi al massimo, e il 3-5-2 era quello che in questo momento qui, in questa partita qui, per come eravamo messo, per l'emergenza, era quello che ci poteva dare l'equilibrio giusto nel poter gestire una partita difficile contro una squadra che comunque lotta per salvarsi. Abbiamo visto Kragl, mister, per la prima volta a mezzala, è andato al golo, quindi è andata più che bene, è un ruolo che potrà ricoprire più volte nel corso della stagione, è ora dettata solo dall'emergenza? No, Kragl secondo me è un giocatore che ti può fare l'interno di centrocampo bene, è normale che ci devi lavorare spesso, quotidianamente, nel discorso delle distanze, negli inserimenti, nel non possesso, perché comunque è un ragazzo di grande qualità, un ragazzo di grande disponibilità che cerca di andare sempre, però è un giocatore importante, l'ha fatto bene, secondo me ha grandissimi margini di miglioramento. Prima dell'ultima domanda su Latina, che gioca già fra due giorni, mister, le chiedo se è possibile recuperare qualcuno, e poi il primo festeggiamento, diciamo, da allenatore dell'Avelino, che sensazione ha avuto? Ma intanto stiamo cercando di recuperare più giocatori possibili, questo lo sappiamo quotidianamente, perché non è semplice, vista anche l'entità degli infortuni che abbiamo avuto. La sensazione è quella di essere onorato, ma l'ho detto in conferenza stampa, di allenare una piazza così gloriosa, una città importante, una società importante dove, detta di tutti, è una delle società più importanti e rispettose, anche in tutto quello che fa nel nostro campionato, mi reputo un fortunato a oggi essermi seduto sulla panchina dell'Avelino. È un motivo di grande soddisfazione, perché l'Avelino sappiamo che club è, che tradizione c'è e che passione c'è. E noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto, trascinare il nostro pubblico attraverso le prestazioni e attraverso l'atteggiamento, perché poi è quello che ho detto ai miei giocatori, si può sbagliare il cross, si può sbagliare il tiro, si può sbagliare un gol, ma non bisogna mai sbagliare l'atteggiamento e oggi c'è stato un atteggiamento importante. Ecco, l'ultimissimo è proprio sul Latina, è una squadra che è in un momento di forma eccezionale, l'Avelino, torniamo al punto di precedente, è in emergenza, però immaginiamo che si andrà a battagliare. Ma tutte le partite sono difficili, in questo campionato non ci sono partite facili, il Latina è uscito da una situazione di difficoltà iniziali, adesso sta avendo grandi risultati, ma come non è stato facile oggi, anche se abbiamo fatto la partita, ma dove comunque abbiamo trovato una squadra molto, secondo me, organizzata. Partite facili non ce ne sono, non era facile oggi, non sarà facile con il Latina, ma io dico sempre che poi bisogna andare in campo con l'atteggiamento giusto e questo dipende tutto da noi. Grazie.